Il sindaco, l'è scappato un va bene quando ha parlato dell'assessorato all'industria? Quindi si attribuisce la delega? Lui l'ha fatto l'invito, io l'ho raccolta, terrò io la delega all'industria. Il sindaco Patrizia Barbieri ha risposto così a Cristian Camisa, il presidente di Confapi Industria Piacenza che dal palco della quindicesima assemblea provinciale dell'associazione aveva chiesto all'amministrazione di dedicare un assessorato specifico proprio al mondo delle imprese. Nel corso dei lavori sono state inoltre premiate alcune aziende associate che si sono particolarmente distinte nell'ultimo anno. La Gas Sales Volley per risultati sportivi, doppiata campionato Coppa Italia in Serie A2, Silvana Maserati della SID Parma come manager dell'anno al femminile, QAM SRL per la grande crescita, la Zenith SPA per la piccola industria, la IRC per la media industria e la Poplast per la grande industria. Proprio la Poplast ha dato immediato riscontro a un'altra proposta dell'associazione e si è detta pronta ad ospitare gli studenti universitari che saranno protagonisti di un nuovo progetto di Confapi legato alla sostenibilità aziendale. Vogliamo mandarli all'interno delle aziende per conoscerle meglio e studiare assieme al management le migliori strategie per far coesistere imprese e ambiente, aveva sollecitato Camisa. Le nostre porte sono aperte, hanno chiarito Pierangelo Fantoni e Carlo Callegari.